A Castelchio Dato, frazione del comune di Mentana in provincia di Roma, la prologgo castellana, e i locali ci tengono a sottolinearlo, rinnova anche quest'anno la tradizione del presepe. Il presepe di Castelchio Dato è uno tra i più belli e suggestivi d'Italia. Già premiato qualche anno fa come il miglior presepe nazionale, ogni anno si rinnova per iniziativa di un gruppo di volontari locali. I lavori sono iniziati da tempo e sono giunti a buon punto. Molte sono le novità di quest'anno. Rispetto all'anno scorso tutto è cambiato nell'allestimento. Ci sono nuovi e più suggestivi effetti audiovisivi con giochi d'acqua di incomparabile bellezza. Paolo, Bartolo, Santino, Francesco e tanti altri volontari della prologgo di Castelchio Dato si sono divisi compiti e tutte le sere, al termine della loro giornata di lavoro, si ritrovano nel cantiere del presepe per portare a termine l'opera. Andiamo a visitare i luoghi dove ancora fervono i lavori e dove tutto è disordine. Ma fra qualche giorno, come ogni anno, tutto sarà pronto per essere ammirato da migliaia di visitatori. Grazie a tutti. Adesso andiamo a vedere come stanno procedendo i lavori per la realizzazione di questo presepe di Castelchio Dato che è una tradizione antica che si rinnova. Ecco, molti anni fa veniva realizzato in una vecchia chiesa proprio sulla piazza di Castelchio Dato. Poi voi della prologgo avete pensato di realizzarlo in questo ambiente così vasto e poi permettere ai visitatori che ogni anno aumentano, sono diventati migliaia, che vengono a Castelchio Dato per ammirare la vostra realizzazione che è veramente notevole. Ma è quella la grotta? Sarà quella? Non lo sveliamo ancora. Vabbè, non sveliamo niente, non sveliamo nulla. Però vedo che insomma siete a buon punto. Quanto pensate che ci voglia ancora per terminarlo? Ormai stiamo facendo gli ultimi ritocchi anche perché quest'anno abbiamo iniziato per tempo prima e quindi volevamo che fosse stato pronto per poterlo far vedere anche in ripresa. Sì, certo. I nostri amici insomma e quindi abbiamo anticipato. Siamo abbastanza avanti, stiamo facendo le ultime chiusure e saremo pronti a breve, diciamo tra qualche giorno. Ed eccoci qui nello spazio dove sta in fase di realizzazione il presepe di Castelchio Dato. Santino e Francesco, io vedo qua tutto cambiato rispetto a quello degli altri anni. È totalmente nuovo. Per esempio, gli altri anni era una città, un paese con le piazze. Adesso è tutto nuovo, vedo tante grotte, una di queste sarà la grotta della natività immagino. Una delle tante grotte sarà quella che ho finito. Quale sarà, non si può dire. È una sorpresa. Allora ricapitolando, questo presepe viene realizzato una volta all'anno. Qualche cosa di riciclato, ma pochissimo, forse sull'intelaiatura. Tutto il resto viene rifatto totalmente. Eccoci. Allora questa è la sala di comando, come l'ha definita il nostro amico Franco. E da qui parte, diciamo, quello che è il cuore del presepe. Qui c'è la centralina elettronica per i presepi, a 24 canali, che gestisce dalle luci, ai suoni, ai movimenti. La parte video è gestita dal nostro proiettore in HD, in alta definizione, che proietta le immagini sullo sfondo, dove vediamo un cielo nuvoloso, vediamo un cielo stellato, vediamo la cometa, vediamo tanti effetti. E tutto viene riconvogliato all'interno di questo computer. Per quello che riguarda, invece, infine, la nostra natività, quest'anno, mi dispiace, cari spettatori, ma dovrete venirlo a vedere di passione. Non ve lo svegliamo, vi rimandiamo a una visita integrale. www.intera.it Grazie a tutti.